Una giornata non fortunatissima dal punto di vista meteorologico, ma diciamo che chi fa sport non molla mai per cui siamo ancora qui nonostante la pioggia in Piazza Unità e ci nutriamo dell'entusiasmo di questi bambini che sono veramente felici di provare tante cose nuove, anche se qualche bimbo, devo dire, io l'avevo già visto a fare scherba quindi questo mi fa ancora più piacere perché sono tornati. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.